Caro Gianni, quanto tempo, come sono contento Gianni, Gianni Bianco, ciao Gianni, sono contento che mi iscrivi, finalmente ti sei fatto vivo, finalmente mi hai iscritto direttamente su Instagram, mi hai lanciato il guanto di sfida con la tua calma, ma sappi che io ho la voce rauca e le crostatine negli occhi perché mi sono appena alzato, ero così preoccupato di Copmainers, ero così preoccupato di questa Juve che ho dormito fino alle 11 e guarda, ti faccio vedere la camomilla, riempita e mai utilizzata, renditi conto come sono, non uso più neanche la camomilla, caro, carissimo Gianni, è normale che parlando di calcio io mi diletti nel giudizio di quelli che sono gli acquisti, le squadre, sono veramente un appassionato di campo, sono contento che anche voi un po' della Juve siate diventati appassionati di campo e non di tutto quello che è l'extracampo, la verità, caro Gianni, la verità, grazie anche per avermi dedicato a fegato spapolato che tu lo sai siamo coetanei, mi ricorda tantissimo la gioventù, la gioventù, l'avevo sentito l'altra sera al lago che c'era un ragazzo bravissimo che faceva tutti i pezzi di vasco e ha scelto proprio questi pezzi qua, cosa succede in città ogni volta eccetera eccetera. Allora Gianni, la caratteristica, tu dici io non parlo mai, non parlavo mai dell'Inter quando la Juve era forte, io la formazione dell'Inter neanche la guardavo e su questo sono d'accordo, insomma così come però io riconoscevo quando l'Inter era forte, quando la Juve era forte, quando il Milan era forte, lo riconoscevo, invece l'anno scorso non tu perché so benissimo come la pensassi ma il tuo ex allenatore, la stampaglia di Stato bianconera, rosso bianconera, poi ti farò, ti dirò anche una differenza fra i Juventini e i Milanisti perché gli Juventini, beh prima finisco questo discorso, l'anno scorso a un certo punto ci avete creduto, non tu, ci hanno creduto, tu no perché me lo ricordo ma anche in televisione, sui giornali, lo stesso Allegri a un certo punto i ragazzi, i Cesni parlano, poi ci rimangono male perché la squadra non era pronta per battere l'Inter dell'anno scorso, non ci siamo, non c'eravamo, se ci siamo te lo dico tra poco ma non c'eravate eppure c'era questo gasamento, io cercavo di smorzare, dicevo non c'è partita, a marzo siamo in Duomo, i primi di aprile e così è andata, la differenza caro Gianni tra il tifoso della Juve e quello del Milan è che il tifoso del Milan sparisce, tu lo sai io sono uno dei pochissimi milanesi doc della zona del centro e quindi ti posso assicurare che dagli anni funesti delle loro serie B e degli loro anni bui loro scompaiono, non li senti, non esistono e questo per me è un complimento da fare ai tifosi del Milan, non ci sono, poi oggi con i social non ci sono due volte, come vedi hanno già quasi mollato, io non sono d'accordo perché il Milan per me è una squadra molto forte, una squadra, una statura che probabilmente ha qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che gioca di, qualcuno che gioca di mala voglia, ma il Milan c'è, il Milan ha dei campioni del mondo, ha dei vice campioni del mondo, ha dei calciatori che hanno sollevato trofei, Champions, a differenza della Juve che ha fatto degli acquisti dove il massimo è Teun che ha sollevato un'Europa League e forse Calullo uno scudetto, il resto è gente che ha vinto la Coppa del Nonno, però i milanisti non parlano e li senti poco, mentre non puoi dirmi che io parli di voi perché voi parlate sempre, voi parlate sempre di noi, parlate sempre, se non ci fosse l'Inter lo Juventino non avrebbe argomenti al di là della sua squadra, ma tornando al campo carissimo Gianni, no, non sono preoccupato per nulla, per nulla, perché credo che giustamente voi siate gasati per questo progetto, ho seguito molto bene la campagna acquisti, non siete raggiunti, cioè non siete riusciti a raggiungere, non avete raggiunto tutti i target che giuntoli si era prefissato, insomma avete preso anche dei bei pali in faccia da Calafiori a Todibbo, cose che non sono dei pistaggi, lo sappiamo, avete preso dei bei pali per poi dover andare su altri calciatori, però la campagna acquisti della Juve è una campagna acquisti da Juve, e se non avete i soldi voi chi li deve avere, chi li deve avere il finanziamento soci, chi deve averlo se non voi, e quindi avete avuto l'idea di andare a prendere uno come Marotta, cercato in Giuntoli, è bravo Giuntoli ma è un po' la brutta copia di Marotta, ma è normale, è anche più giovane, ha fatto degli acquisti quasi tutti, insomma anche a Sancio ma si leggeva stamane, insomma sui giornali quando mi sono alzato, ma avevo ancora le crostatine negli occhi, quindi non te lo posso garantire, ma su Sancio c'è qualche problema ma secondo me è superabile, quello che non viene raccontato è tutto il patrimonio calcistico che avete perso, poi è ovvio che ci sia gasamento per il progetto, una parte della tifloseria non voleva Motta, non voleva il ritorno di Conte, ma quello poi non è non è importante, insomma vedo che invece c'è molto gasamento, c'è molto attaccamento e sono contento per la competizione, ma lo dico seriamente, sono contento anche che il Napoli abbia preso appunto Antonio Conte e dei calciatori, incluso l'infamone Lukaku, così vediamo che cosa sapranno fare e ripeto il Milan non è per niente fuori dai giochi, forse ha sbagliato l'allenatore. Voi sicuramente avete puntato su una storia, su un ciclo nuovo, quello che ha Motta dei generatori giovani, di quelli che devono esplodere, quello che ha Motta è la presenza, il physique du rôle, la sfacciataggine, la sicurezza di quello che sa cosa fa, di uno che si fa sentire e gli altri devono stare muti perché Motta ha vinto tutto, ha giocato con tutti i più forti, ha giocato nei più grandi club e arriva dalla scuola di Barcellona dove era uno di quelli che è stato manato via perché è considerato leggermente inferiore al grande centrocampo del Barcellona, ma comunque di quel livello lì e poi è uno che le palle le ha e sicuramente verrà ascoltato. Ti ricordi Gianni, quando ti dissi di prendere un allenatore che abbia vinto la Champions, non puoi prendere un allenatore che ogni volta arriva e finalmente ci siete arrivati, io vi ho dato un consiglio e l'avete seguito, non l'ha vinta, io avrei preferito, vi avrei consigliato un allenatore alla Zidane che avesse vinto la Champions da allenatore, avete preso un giocatore che ha vinto la Champions da allenatore, dicevo che il progetto c'è, non tutti i calciatori, ho fatto qua ieri una lista vostra, eccola qua, perché cercavo di capire un po', insomma Cobb Mainers vince l'Europa League, sicuramente un grande profilo strapagato, però un giocatore che assolutamente non si discute, Douglas Lewis mi fa veramente schifo, pagato un occhio della testa o meglio non pagato o pagato, comunque Douglas Lewis non mi convince, Turama è un gran calciatore, un bellissimo profilo, ha vinto delle coppette, vedremo come riuscirà a metterli insieme Motta. Con Cimao non è malissimo, poi bisogna vedere se avrà lo spazio per fare quello che faceva in Portogallo, Nico non mi sembra nulla di eccezionale, se Correa non avesse le sue menate sarebbe più forte di Nico, è stato più forte, lo dice la storia in Argentina, lo dice la sua storia, però Nico è un discreto attaccante, un discreto panchinaro e Calulu mi piace, rimarai sorpreso, ma Calulu è uno che ha gamba, non è sempre concentrato sulla partita, ma Calulu è un calciatore che se è motivato e se ha compagni di reparto Buonica, lui lo può fare la differenza. Cabal è un calciatore mediocre, insomma da noi veniva a fare la panchina e rimane un calciatore mediocre e Di Gregorio è cresciuto da noi, ne conosciamo le potenzialità, ma Cesni era di un altro pianeta. Per il resto ti dico carissimo Gianni che davanti vi manca qualcosa, perché Vlaovic finalmente si gaserà anche perché sennò avete buttato nel cesso i famosi 70 e passa milioni. Ildiz non è ancora pronto, ma tu sai che io lo stimo molto, per il resto Milic non ha più le ginocchia, ma qualcosa può dare sicuramente l'esperienza e vedremo con che formula giocherà, poi non contano i ruoli, conta come Motta riuscirà a mettere insieme la squadra, quindi sono contento che Tubbiamo abbia lanciato questo guanto di sfida. Ti ricordo, ma se vuoi ne parliamo insieme possiamo fare una live che a oggi è difficile trovare per i giocatori della Juve un posto nella formazione dell'undici titolare dell'Inter, forse giocherebbe Bremer al posto di Acerbi, se Acerbi non è quello della finale di Champions, se no gioca Acerbi perché poi conta anche l'esperienza. Non scambierei mai Sommer con Di Gregorio, non lo so, Bastoni e Provar sono indiscutibilmente più forti di qualsiasi giocatore nella vostra difesa, qualcuno mi dice che Cambiaso giocherebbe nell'Inter, con questo Darmian nell'Inter non gioca neanche, non giocherebbe neanche Pendolino Cafu, va bene? Perché ci sono probabilmente, sai, col crescere, col passare degli anni può crescere, ma Cambiaso non è, vabbè, comunque io credo che la sfida sarà e sarà bella, importante, ma Motta avrà tanto lavoro. Poi ci sarà la Champions, i viaggi, le aspettative, gli scivoloni, comunque ci vediamo presso San Silo perché l'Inter-Juve, insomma, tra un mese e mezzo sarà di scena, no? Forse un po' di più. So che l'Inter incontrerà da domani Atalanta, Milan, Napoli-Juve tutte in casa da qui agli inizi novembre. Quindi, caro Gianni, io non la uso, se vuoi te la spedisco, sono tranquillissimo e convinto che sarà un bellissimo campionato finalmente. Non piango, vedi? Non ho problemi a dire non abbiamo soldi, non piango. Abbiamo una dirigenza che prende calciatori di valore a zero, abbiamo una statura importante, noi non abbiamo venduto nessuno, voi avete tolto parecchi elementi importanti, il campo giudicherà, vediamo se arriverà anche Sancho, ecco, Sancho se va alla Juve è un grandissimo calciatore, l'anno scorso ha fatto tre gol, tre assist, però Sancho è un calciatore proprio nato per giocare a calcio e Sancho se va alla Juve forse, forse in rapporto qualità, prezzo e esperienza sarà il colpo migliore. Va bene, caro Gianni, a presto e mi raccomando, mi raccomando, fatti sentire, non che poi mi sparisce la prima sconfitta.